Arezzo, Arezzo, mio bello Arezzo, questo stornello che vi incanto, non scherzo, venite al mob ragazzi, venite al mob oggi eh, c'è un bellissimo storio della bellissima gente ragazzi, vi ascoltiamo. Un laboratorio di innovazione sociale, iniziative culturali ed artistiche, didattiche, sportive e shopping. E' così tornato per il terzo anno Staglione Mob, una domenica di festa per l'intero quartiere. L'iniziativa si è snodata tra via Vittorio Veneto, via Rismondo, via Guelfa, via Trasimeno, piazza Zucchi e piazza Saione. Un evento promosso da Oxfam Italia e Confesercenti con il patrocinio del comune di Arezzo e della fondazione Arezzo Comunità, in collaborazione con le tante associazioni di volontariato e culturali del quartiere, ma anche i commercianti e gli istituti scolastici della zona. Tante le iniziative rivolte ai giovani e famiglie, a partire dal mercatino delle Pulci, con oltre 200 banchi in tutto il quartiere e al mercato di beneficenza, organizzato dall'Associazione Il Velocipide e Centro Socializzazione Clà in piazza Zucchi. Per tutta la giornata sono rimasti aperti anche i negozi del quartiere. Insomma, una vera e propria mobilitazione delle tante realtà del quartiere, con l'obiettivo, sottolinea la direttrice artistica Silvia Ciarpaighini, di festeggiare l'impressionante ricchezza e il capitale sociale che possiede questa comunità, dando voce alla creatività e al lavoro di tutte le realtà che ogni giorno contribuiscono a darle vita.